Un'idea lanciata sui social si trasforma a Menfi in una manifestazione organizzata dalla comunità locale. Menfi in festa, identità e territorio è l'evento che si svolgerà nel comune Belicino l'1 ed il 2 ottobre prossimi. Straordinaria l'adesione che l'iniziativa ha ricevuto da parte dei cittadini. È proprio sulla comunità che voglio soffermarmi perché nasce appunto dalla volontà della comunità che ha manifestato appunto, scusi gioco le parole, la volontà di creare un evento che abbia al suo interno tutte le condizioni possibili per dare possibilità a tutte le maestranze locali per poter dire la loro, per esprimersi, per esibirsi e tutto quanto. Nasce dal nulla appunto sui social come ha detto lei e siamo felici. Se considerasse che non siamo ancora riusciti a chiudere il programma perché continuano ad arrivare ancora adesioni, richieste di adesioni e di questo noi siamo veramente felici. Abbiamo naturalmente preso le redini in mano di tutto questo perché era giusto che si creassero una cabina di regia per dare un senso anche sotto l'aspetto organizzativo. Le posso dire che siamo a buon punto e il primo 2 ottobre ci sarà questa grande possibilità che la gente scende in piazza e dirà la sua, a cominciare dai musei, a cominciare dai pittori, dagli artisti locali, dagli artigiani. Noi sconoscevamo che ci fosse l'esistenza di artigiani che creassero delle situazioni, delle maestranze particolari. Non conoscevamo questa cosa e grazie anche a questa manifestazione siamo venuti a conoscenza di queste meraviglie che la città ha. Avete indetto un incontro, subito dopo la diffusione sui social di questa idea, e non vi aspettavate questa grandissima partecipazione da parte della comunità? Appunto, poi il 26 agosto per l'esattezza abbiamo, e c'era la necessità di incontrare face to face, quelle che erano le persone che volevano partecipare. Se considerasse che noi pensavamo di organizzare questa festa in un'unica giornata, invece siamo stati costretti poi ad allargare in due giornate, appunto, per consentire a tutte le persone che vogliono aderire di esprimersi in queste due giornate. Una prima giornata, già dall'inizio, per esempio dalla mattina, ci saranno già eventi, a partire dai musei aperti. Noi vantiamo di avere il Museo Malacologico, vantiamo di avere il Museo del Mare, che è intitolato a Tusa, l'assessore Tusa, e poi collezioni di privati, come per esempio le cose del mare, le cose del mare. Poi abbiamo anche invece spazi dedicati allo spazio cultura, quindi presentazioni di libri, lo showtime teatro il sabato, dove si esibiranno artisti, poeti, anche di sciacca, che ci onoreranno della loro presenza, appunto, con le poesie dialettali, perché la nostra è Menfi in Festa Identità e Territorio. La prima edizione di Menfi in Festa nasce dunque dalla volontà e dalla determinazione dei cittadini di partecipare e rendersi protagonisti attraverso la propria arte, ma soprattutto dalla necessità di ritrovarsi come comunità e di tornare a riappropriarsi degli propri spazi e dei propri luoghi dopo due anni di pandemia. C'è proprio una necessità. Noi quello che abbiamo fatto è stato solo accogliere delle richieste. È stata lanciata una scommessa su Facebook, è diventata un vero e proprio brainstorming. Noi abbiamo raccolto, in sostanza, tutte le idee, le abbiamo messe dentro un contenitore, adesso le stiamo sviluppando. Piero, che sarà il direttore artistico, ha parlato già di programma, ancora dobbiamo inserire tantissime altre cose. Ma c'era proprio una voglia intensa da parte della comunità di Menfi di rendersi protagonisti. Veniamo dalla pandemia che ha, in sostanza, creato una sorta di frattura sociale, io la definisco. Mi è capitato con molti amici di dire cosa fai stasera. Siamo a casa dell'amico. Ecco, dobbiamo non andare più alla casa dell'amico, andare a fare festa a casa dell'amico. La festa va fatta di nuovo nella piazza, nel centro storico e dobbiamo ripartire in sostanza da lì. Adesso stiamo facendo questa prima edizione e ci auguriamo che possa avere anche un seguito in questo senso. Pittura, teatro, artigianato, musica, enogastronomia, arte, cultura, ci sarà tutto questo nella prima edizione di Menfi in Festa. Io sono una cantante e quindi mi esibirò nella giornata dell'1 ottobre, dove sarà la giornata dedicata alle varie associazioni teatrali. Mi esibirò insieme all'associazione Voli Pindarici, quindi vi aspettiamo in tanti e spero che questa manifestazione sia di buon auspicio per tutta la comunità menpitana.